Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Cari musulmani, cari fratelli, prima di fare la priera si fa il wudu. Cosa significa il wudu? Significa che prima entriamo e laviamo le mani tre volte. Poi dalle mani sciacquiamo la bocca tre volte. Poi facciamo l'istinshaq, significa che facciamo entrare l'acqua dentro il naso e poi li facciamo uscire. Li facciamo entrare con le mani destra e sciiamo con le mani sinistra. Poi tre volte, con le mani tre volte. Il naso tre volte. Poi passiamo alla faccia. Laviamo la faccia tre volte. Poi dalla faccia leviamo le mani dal gomito fino agli ditti. Facciamo entrare prima l'acqua dentro gli ditti, così si lava bene. Iniziamo con la destra tre volte. Poi la stessa cosa le ripetiamo sulla sinistra. Poi sciacquiamo le mani e le passiamo sulla testa una volta. Poi gli orecchini. La stessa cosa facciamo per una volta. Laviamo con il ditto, laviamo dentro e fuori le orecchie. Una volta. Poi passiamo al piedi sinistra, destra. Facciamo tre volte. Laviamo le mani e poi passiamo quello di sinistra. Tre volte, tre volte. Sono sei. Poi abbiamo finito lo do. Poi diciamo bismillah, bismillah. Poi andiamo a fare direttamente la priera. La priera si mette il tappeto direzione la mecca. Poi iniziamo con il video che ho mandato. Grazie e Dio con voi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.